Fotografie che raccontano la vita quotidiana, le attese, gli abbracci e i momenti di solitudine. Riflessioni quindi sulla vita catturata in 41 foto raccolte nella mostra collettiva Involontariamente Amo, ideata da Joanne Cernoy dedicata a Vincenzo Moretti, un ventenne vittima di un incidente stradale sul lungomare di Bari, il 14 aprile del 2002. A distanza di diversi anni dalla sua scomparsa, la mamma ha voluto raccontarlo e ricordarlo nei suoi scatti e in quelli dei tanti fotografi, ispirandosi ad una raccolta di poesie e di pensieri scritti proprio da Vincenzo. In molte fotografie è presente il senso di solitudine umana. Le persone ritratte sono spesso figure che paiono smarrite in una natura o in contesti più urbanizzati, come persone in cerca di identità o su cubi di una incomunicabilità difficile da superare. Ma in molte altre immagini invece prevale l'aspetto gioioso di splendore della natura, una natura non più estranea ma culla accogliente della persona. La mostra fotografica collettiva Involontariamente amo è un inno quindi alla vita in tutte le sue forme e rimarrà aperta e visitabile fino al 30 aprile.